Ciao a cinefusi.it, bentornati. Oggi vi parlerò di un docufilm, un film documentario che ho visto e del quale mi interessa esordire con la sinossi che leggo da filmitalia.org che l'ho letta e mi è piaciuta molto, quindi ci tengo a esordire così, a portarvi con me in questo viaggio, in questa recensione, in questo modo. 18 settembre 1970, ospedale San Giovanni di Roma, sala parto. Elvira partorisce Leoninda, al settimo mese di gravidanza. Aveva una montagna di capelli neri e strindava come un'aquila. Elvira non ricorda altro che quel pianto che mai più ha sentito e le ha condizionato l'intera esistenza. Purtroppo Leondina muore due ore dopo il parto. Elvira viene dismessa con tanto di bara, tomba e lapide a terra. Il percorso di certe storie è impossibile da prevedere. Nella finzione comanda la logica, nella realtà non c'è logica. Monica, 50 anni, ha scoperto di avere due vite. Nella prima è morta il 18 settembre del 70 e nella seconda è nata il 22 dicembre del 70. È la storia vera di Monica, Elvira e Ilaria. Bene. Ovviamente do delle componenti tecniche, chiaramente. Il titolo è appunto Ridatemi le mie ossa. La regia è di Patrizio Labella, la sceneggiatura è sempre di Patrizio Labella, è coadiuvato da Dino Centonze. Produzione Giovanni di Primio, Patrizio Labella, Dino Centonze, Fabrizio Galassi. Produzione Zat Film Production. Bene. Ovviamente vediamo gli stilemi del film documentario, comunque. Riprese a mano, a macchina a mano, che si alternano a inquadrature fisse, movimenti, oscillazioni della camera, colore molto sgranato, primi piani poco strutturati, ovviamente, e anche molto di a schiaffo. Così, e magari il primo piano ce l'ho in questo modo, qui, attaccato, molto deforme, quindi ovviamente dietro non c'è uno studio di composizione nella maniera più tecnica, cinematografica, che ci viene in mente se parliamo di qualsiasi lungometraggio al cinema. È ovviamente appunto un documentario che rispetta gli stilemi del documentario. Ma anche, appunto, riprese dal basso, no? Inquadrature dal basso, magari in macchina, e avvio e magari la telecamera ce l'ho sul petto e quindi vedo la parte della strada, ma non vedo la strada. Vedo la strada strada, contornata dal cruscotto della macchina, contornata dal vetro della macchina, il pezzo dello sportello, inquadrature dall'alto verso il basso, quindi mi inquadro i piedi, mi inquadro inquadro, che ne so, gli animali, inquadro la busta di plastica lasciata a terra. È forse la forma più vicina allo spettatore, in qualche modo, perché è letteralmente ciò che fate quando accendete una videocamera e iniziate a riprendere. Facciamo il video, no? Al nostro amico che fa gli anni, ed è quella roba là. Quindi ti riesce a immergere tremendamente in questa storia, molto forte, appunto, di Monica, che è stata partorita da Elvira, che però è nata settimina, quindi non ha compiuto i nove mesi di nascita che richiedono al bambino per nascere, per venire al mondo. Dopo due ore, appunto, muore, viene data per morta. Ma la madre Elvira, e qui è la potenza enorme della natura umana, ma della natura anche intesa come madre natura, Elvira, la madre, sarà l'unica che sentirà, questa cosa è tremenda, è tremendamente affascinante. Sentirà che sua figlia non è morta, è viva. Per 50 anni aspetta questa donna, no? La sente, la sente, la sente, sente che c'è. La nipote Ilaria, la nipote di Elvira, quindi la figlia di uno dei tre figli di Elvira, no? Elvira, la nonna che ha partorito Monica, e due maschi. Ilaria, la figlia di uno dei due, che se non sbaglio si chiama Mauro, non vorrei sbagliare, inizia a indagare, promette alla nonna che le avrebbe riportato Monica, che nel frattempo ha vissuto una vita un po' da vagabonda, se vogliamo, no? All'insegna di entrate e uscite in continuazione tra magari un centro di recupero ospedaliero, una comunità, un giro di droghe, un giro di furti, un giro di escamotage per tirare su... ma infatti lo vediamo, comunque Casa di Monica è continuamente in subbuglio, ma anche proprio sulla sua pelle. Ci sono i segni di una vita vissuta, ecco... sì, all'insegna della strada, no? In qualche modo. Perché comunque le sue braccia sono segnate da buchi, graffi, il suo modo di vestire, il suo modo di parlare. Le persone che frequenta, il fatto che lei abbia avuto una figlia che ha perso con un certo Patrick, poi è stata rimessa incinta di nuovo da Patrick e partorisce questa figlia, Sofia se non sbaglio, che è stata cresciuta da lui, abbandonata da lei. Quindi è una storia di madri, figli che continuamente si perdono, si lasciano, si ritrovano, e ci fa riflettere, almeno secondo me mi ha portato a me, ha portato personalmente alla riflessione sulla questione seguente. effettivamente nel mondo quanti figli, oltre che non hanno i genitori, non sanno di chi sono figli, sono orfani, senza un'identità, senza una storia, o con una storia che non è la loro, perché come quella di Monica è cresciuta in adozione e quindi lei ha vissuto per tutti questi anni una vita che non le apparteneva. È scappata, ha cercato la verità, la madre tradottima non le ha mai detto la verità e cercava di omologarla a se stessa per cercare di assomigliarle. Una madre che riflette sulla figlia un suo essere, un suo sentire, un suo doppio, ok? Cioè tu sei mia figlia anche se sei in adozione, anche se sei stata adottata, io cerco di creare un doppelganger, uno specchio di me stessa. Magari ho delle mancanze e le rifletto su mia figlia e quindi cerco di creare appunto un automa, un pantoccio che abbia le mie stesse forme, il mio stesso stile di vestire, di parlare, di sorridere. È tremenda questa cosa. È un po' Orwell, no? Una società che cerca di modellare, omologare e ha propria immagine e somiglianza. Riflettevo sul fatto quante probabilità ci sono che magari noi nel mondo, noi, io, tu che stai guardando la recensione, tu che lasci like, commenti, condividi, te la viene a riguardare. Magari possiamo avere fratelli, cugine, zii di cui non sappiamo l'esistenza? Quante volte capita che... Ah, ma quindi tu sei parente di... Ah, ma quindi sei... Oddio, ma siamo tipo cugini di Tot Grady. È incredibile quanto sia piccolo il mondo, quanto le strade si dividano, si rintreccino, si ritrovino, perché poi alla fine Monica è vissuta lontano dai suoi veri genitori, la sua vera famiglia composta dai due fratelli e la madre, a 20 km di distanza e non lo sapevano. Si sono incontrati nell'arco di questi 50 anni, magari, e non lo sapevano. Ambientata a Roma, questa storia, tra Montemario, o Montesagro, Montemario, Guidonia, quindi anche comunque verso le mie zone. Potersi anche che io Monica l'abbia vista in tutti questi anni, perché è una storia vera. Potersi che io una volta nella vita l'ho incontrata Monica. È incredibile, è una storia che ti lascia veramente dell'incredibile. Vorrei fare complimenti a Patrizio Labella per come l'ha girata. Arriva, arriva veramente potente. Anche le riprese di questi cimiteri fatte di girandole, queste tombe di bambini. Wow! Non vorrei divulgarmi ulteriormente, ci ne fusi. Vi bacio, iscrivetevi, lasciate like, condividete, fateci sapere cosa ne pensate e recuperatevelo. Io vi bacio, come sempre, vi saluto e ci vediamo alla prossima.